Buon pomeriggio e bentornati con questa nuova edizione di TR24 Sport. Torna con un solo punto in tasca il Cesena dalla trasferta di Latina. Gara valida per la ventottesima giornata di campionato di Serie B. Al gol di Cocco ha risposto l'ex della Fiore. Vediamo i contributi video del match. Secondo scontro diretto per il Cesena di Camplone di scena allo Stadio Francioni contro il Latina di Mister Vivarini. La prima occasione utile la confezionano i Pontini al nono. Con una imbuccata di buon aiuto ma sul momento del tiro Donkor riesce a deviare quel tanto che basta per aiutare l'uscita prodigiose di Agliardi. Risponde Ciano dalla distanza. Il suo missile all'undicesimo impegna Pinsoglio in volo. La gara è aperta e combattuta. Ancora i bianconeri in avanti su calcio da fermo. Ciano trova la torre di Donkor sul secondo palo. D'ottima posizione però Garritano si fa murare al sedicesimo. Arriva quindi il vantaggio. Renzetti scodella bene dalla sinistra. Sul secondo palo Cocco, lasciato libero da Garciatena, schiaccia la palla in rete al trentesettesimo. Quinto gol in bianconero per l'attaccante arrivato a gennaio. Si passa la ripresa in cui il Cesena comanda per venticinque minuti e al cinquantottesimo Garritano, lanciato da Ciano, si fa rimontare proprio sul più bello da Brusca Ginn. Vivarini mette in campo Insigne ed ai suoi piedi arriva l'assist per l'ex della Fiore che tutto solo impatta in rete il pareggio al settantesimo. Non ci sta il cavalluccio e tenta di ritrovare il vantaggio prima con una botta di crimi dalla distanza al settantaquattresimo e poi con la max-occasione frantumata sulla traversa del nuovo entrato Panico all'ottantanovesimo. Finisce quindi con tanto amare in bocca questo antipasto di play-out ed ora, sabato col Vicenza, non ci devono essere più scuse per i romagnoli. Al termine del match c'è tanto rammarico per mister Camplone in quanto la gara era stata ben gestita sotto il piano della prestazione. Più soddisfatto Vivarini, sentiamoli. Quando non chiudi le partite è normale, abbiamo fatto una grandissima prestazione, è un campo difficile. Sapevamo che loro ci potevano venire a prestare molto alti, noi invece li abbiamo un pochino sorpresi con il nostro pressing a tutto campo. Poi l'1-0 era meritatissimo. Poi è normale che sull'unica occasione che gli abbiamo lasciato hanno fatto col peccato che alla fine potevamo anche perderla se agliardi non fanno un paio di interventi come si deve. Queste partite vanno chiuse, purtroppo non ci siamo riusciti e alla fine abbiamo un pochino tribolato. Siamo stati bravi noi a non farli giocare. Quando una squadra come Latina, che imposta da dietro, gioca palla a terra e ho visto diverse partite, Latina gioca molto bene. Siamo stati bravi noi a non concedere quasi nulla, solo lanci lunghi e con i nostri tre difensori abbiamo tranquillamente gestito la situazione. È stata una partita dura nel primo tempo, molto combattuta. Loro ci sono venuti ad aggredire molto alti, con grande intensità, con grande cura dei particolari. Ci ha messo in difficoltà nella nostra fase di costruzione. Noi siamo stati bravi a giocare anche sotto pressione, riguadagnando campo. È stato bravo in signa, ma è stato bravo anche De Giorgio a entrare con la verve giusta. Ci ha fatto riprendere, perché all'inizio del secondo tempo effettivamente ci eravamo un po' sfilacciati, allungati e avevamo perso di fiducia. La lunga striscia di risultati utili di fila si è fermata a quota 15 per il Ravenna in Serie D, dopo il capo di domenica contro Scandicci. Domenica e Giallorossi cercheranno di inaugurare una nuova nell'impegno casalingo contro l'Adriese. Doviamo proiettarci alla partita di domenica prossima con l'Adriese. Una delle squadre che ci ha dato il dispiacere durante il campionato. Come vedi questa partita? Sicuramente nel giro d'andata contro l'Adriese eravamo in un'altra situazione. Oggi invece abbiamo trovato più consapevolezza di noi stessi, siamo più squadra e riusciamo ad essere più incisivi sotto porta. E questo senz'altro ci darà una mano anche per domenica prossima e per rifarci dall'andata. L'Adriese che è annunciata in gran spolvero, una squadra che a dicembre ha cambiato volto e quindi le squadre che vengono alla Vene vengono tutte a proporsi al meglio anche perché trovano di fronte uno stadio di un'altra categoria e un pubblico sicuramente appassionato. Tutte le squadre di metà classifica in basso provano da noi a chiudersi e a ripartire in contropiede. Dovremmo cercare l'Adriese di non concedere ripartenze. Loro hanno una seconda punta molto forte di altra categoria e quindi dobbiamo cercare di limitarlo e di ricominciare a fare gol e a ottenere risultati. Passiamo ora al basket. È stata una serata iniziata e finita male per l'Andrea Costa Imola a Mantova. I padroni di casa delle Stinks hanno avuto la meglio sui Romagnoli col punteggio di 80-77. I ragazzi di Ticchi sono partiti con due errori sotto canestro di North Fleet e dopo un primo timeout ospite per riordinare le idee, Mantova prende il largo sul 20-8 arrivando fino all'inizio del secondo quarto a quasi 20 punti di distacco. Imola accorcia con dei tiri liberi di Conn ma negli ultimi due tempi il divario tecnico si fa sentire e arriva una sconfitta senza troppo da recriminare. Domenica al Pararuggi sarà ospitata Udine e l'Andrea Costa deve trovare punti per rialzarsi dal terzo e ultimo posto in classifica. Passiamo ora al calcio giovanile con la rubrica di Golè che ha visitato l'associazione sportiva dilettantistica Azzurra Ravenna nel filmato una sfida tecnica di tre giovani talenti. Azzurra Ravenna Passiamo ora a visionare i principali quotidiani sportivi locali incominciamo con il Corriere di Romagna in apertura c'è spazio per il basket con l'Andrea Costa di Imola che perde in volata contro il Tabù Mantova e per quanto riguarda il calcio in Serie B il Cesena butta altri due punti Lega Pro, Cappellini verso Parma senza paura e l'ex Nocciolini va K.O. Proseguiamo ora con il resto del Carlino sempre l'inserto sportivo in apertura colpo di scena in casa Milan slitta ancora la cessione closing rinviato i cinesi chiedono un altro mese foto notizia per quanto riguarda invece la Coppa Italia implacabili la Juventus vince contro il Napoli per 3 a 1 in Coppa Italia andiamo avanti con la voce di Romagna sempre l'inserto sportivo San Marino nel segno di Bonini un onore il Consiglio federale ha ufficialmente nominato l'ex campione della Juve direttore tecnico e ambasciatore il presidente Tura lo conosco da quando si era bambini sono felice con questo è tutto e diamo ora la visione all'appuntamento con Luciano Poggi e purtroppo siamo alle solite parliamo ovviamente del Cesena che ieri sera ha pareggiato contro il Latina con il punteggio di 1 a 1 ormai questa è storia e non può più essere cambiata sicuramente ma perché siamo alle solite? perché il Cesena gioca una bella partita perché il Cesena crea tanto ma il Cesena non fa gol e poi succede che la squadra avversaria crea una sola occasione fra l'altro con calcio da fermo il portiere sbaglia l'uscita e pareggia l'incontro e ancora se vogliamo da dire contro gli arbitri perché? perché alla fine del primo tempo proprio al 45esimo c'è un calcio di reazione è netto sotto gli occhi del collaboratore dell'arbitro fra l'altro anche quindi erano 4 gli occhi che dovevano avere visto su Perticone un calcio di reazione inusitato che andava punito con un cartellino rosso immediato senza neanche pensarci e invece neppure l'ammunizione allora se nel cardeone ci mettiamo poi la traversa colpita da panico a pochi minuti dalla fine ecco che arriva fuori quel ci risiamo ci risiamo il Cesena è ancora con l'acqua alla gola il Cesena gioca eccezione fatta per la partita contro la Provercelli il Cesena però esce con un solo punto e così nel giro di 48 ore butta via tre punti che potevano essere importantissimi due con il Latina e uno con la Provercelli siamo davvero alle solite ma pare che una correzione sia ormai impossibile da trovare termina qui questa edizione di TR24 Sport ricordo che per ulteriori approfondimenti è disponibile il nostro portale tr24.it grazie per l'attenzione buon proseguimento di giornata grazie per l'attenzione